Recentemente ho avuto un appuntamento con una ragazza. È un taglio. Ma cosa abbiamo fatto? Racconto tutto subito. Step 1. Mangiamo insieme. Step 2. Le faccio lavare i piatti. È giusto, ha senso. Step 3. Step 3. Film. Che film? Non ho perso l'aereo. Abbiamo visto un sacco di film. Quante cazzo è durato? 10 giorni? Scusami, te lo posso dirlo? Non ci vuole registrare. Allora, quindi. E poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo finito il film a mezzanotte. Che fai vai a dormire. No. Cosa abbiamo fatto? Guardate subito. Andiamo a prendere un bel gelato con crema, mirtilli e cioccolato. Dolingo. Ah, non il gelato. Così. Cioè, ci siamo messi noi, facciamo Dolingo. Ne hai preso l'iPad, io ho preso il telefono, abbiamo fatto Dolingo. Facciamo una lezione. Forse io volevo aver fatto io no, perché... I am from Canada. I am from Canada. Allora. Io. Affollato Canada. Come no? Io sono del Canada. Ah, I am from. Ah, I am from. Ah, I am from. Form. Form. Perché dov'è che lei si è formata? Giusto. No. Ah, from. Perché from è... Pedro. Ah, Pedro. Le it's sono le sigarette, giusto? Quelle che spettano i liveots. Sicuro? Si. It's like in On the table. Tipo il cut on the table. Ok. Ah, giù. No, non è like. Like. Perché a Pedro piacciono le it's sul tavolo. Però mi ero giusto Eh no perché per noi erano tutte e tre giuste No tre modi diversi Lui è Te Ah lui sta Abbiamo difficoltà anche se Facendo le cose seriamente Bye Abbiamo finito Lezione perfetta abbiamo fatto solamente tre Rodi ovviamente per il man Quindi per questo video è tutto ci vediamo al prossimo video Ciao